Allora io sono Laura, sono mamma di due gemelle che adesso hanno due anni e mezzo e praticamente quando erano molto piccole mi sono trovata in difficoltà a parte che sono andata a premature ma soprattutto con una perché si è ammalata non voleva più mangiare e io la forzavo, sentivo, comunque sentivo che piano piano si stava creando una tensione fra di noi. Questo mi ha portato a vedere dei meccanismi in me che non funzionavano, vedevo che non potevo crescere così due bambine e ho cercato su internet dove si cerca, ho trovato per caso, fra virgolette non credo al caso un libro di Roberta e Antonio e ho cominciato a leggere, da lì ho cominciato a divorarli tutti, leggevo di notte fra una poppata e l'altra questi livelli, li ho divorati tutti e ho iniziato fin da subito a metterli in pratica e mi hanno proprio cambiato la relazione con le bambine, la vita e mi hanno aiutato a lavorare anche su di me tantissimi e beh, ho ancora da lavorare però adesso ho voluto venire al corso con mio marito perché lui non ha tanta voglia di leggere tanti libri, magari vede video e basta, secondo me sono felice di questo e lo consiglio sempre a tutti proprio, veramente, perché mi ha cambiato un rapporto con le bambine e con la mia famiglia, insomma, il meglio, il sole è mio che sa prima, è più che l'anno